Grazie a Gianni Dotta, grazie al Presidente, buonasera a tutti, a tutti gli ospiti del circolo, a tutti gli amici del gruppo dei 100% e il mio buonasera a Pier Giorgio Di Freddi che ha accettato l'invito a questa nostra serata. Pier Giorgio lo sa, io sono sempre felicissima di intervistarlo e molto spaventata, lui questo lo sa, perché Pier Giorgio ha un bellissimo viaggio sempre ma di cui non si conosce la meta, non si sa dove si va a finire con Pier Giorgio. Allora io ritengo, siccome tu puoi essere considerato, credo ormai, patrimonio dell'umanità, io ritengo che sia giusto iniziare questa intervista su questo libro che ahimè, e lo dico con grande ammirazione e anche con molta invidia, è un altro successo elettorale, editoriale. Elettorale in seguito. Era un lapsus, era un lapsus. Quando gli animali avranno diritto di voto e non solo di partecipazione al Parlamento. Esattamente, allora io riterrei più corretto che in questa mia chiacchierata, questa chiacchierata che io faccio con lui, vi prego intervenite anche durante la chiacchierata, non aspettiamo gli ultimi tre minuti famosi perché avrete sicuramente domande più interessanti di me e in qualche modo mi darete una mano. Anche le risposte, anche le risposte. Allora dicevo, con Pier Giorgio adesso ne parlavamo a cena, sì, grande successo il disoriale, anche questo libro che lui ha scritto, come saprete, l'avete forse letto sui giornali, l'avrete già visto, ha scritto un libro che chiede una riflessione sul comportamento dell'uomo nei confronti degli animali, cioè è proprio una riflessione su quello che è stato il rapporto stabilito con gli animali che l'uomo ha sempre considerato al proprio servizio, per avere cibo, per avere vestiti, per avere lavoro forzato, divertimento, mai riflettendo bene sul fatto che per esempio l'umanità ha fortunatamente andato avanti secondo un'evoluzione che è avvenuto facendo tanti studi proprio sugli animali e studiando, osservando il comportamento degli animali, cosa di cui non siamo stati molto grati, devo dire. Allora, lui ha fatto una cosa che a me è piaciuta tantissimo, ha fatto due riferimenti, oltre a quello scientifico, due riferimenti importanti. Uno sono i riferimenti letterari, perché lui dice giustamente chi più degli scrittori ha partecipato a rendere, a considerare degli esseri davvero meritevoli di attenzione, gli animali e quindi immaginate Garzia Lorca con Centanni di Solitudine, Guerre Pace di Tolstoi, cioè immaginate questi scrittori che hanno assolto a questo compito. E poi un'altra categoria molto interessante che sono i filosofi. I filosofi, io qui mi sono, tu hai citato la tartaruga paradossale di Zenone, il cavallo ideale di Platone, il cane cinico di Diogene, il tacchino induttivo di Russell, eccetera. Però, qual è il problema? Che gli scrittori si sono occupati degli animali immaginari. I filosofi hanno trattato quelli metaforici. Lui dice, gli scienziati li hanno studiati. Allora, di fatto, poi è intervenuta la cultura nell'atteggiamento che noi abbiamo avuto nei confronti degli animali e ho paura a dirlo, ma anche la religione. Ecco, anche lì poi si apre uno scenario. Allora, io vorrei trattare, fare questa piccola, potremmo fare una piccola carrellata su una marea di informazioni che lui ha messo in questo libro. Però, mano a mano, vi prego, aggiungetevi a queste domande, intervenite, interrompeteci per fare a lui delle domande che possono essere molto più interessanti di quelle che farò io. Partiamo da un motto che tu hai usato, hai ricordato in questo libro. Il motto che è di Jack Mondo, che dice, quello che vale per il batterio vale per l'elefante. Cioè, quello che vale per il piccolo vale per il grande. E tu hai detto, quella famosa rincorsa di Einstein per tutta la vita, che ha cercato di unire il piccolo col grande, facendo una certa fatica. Allora, hai citato tantissimi esempi e ogni studio sui vari animali ha rappresentato un balzo nell'evoluzione della ricerca, per esempio. Ci sono state scoperte un sacco di cose. Adesso io qui ho fatto una marea di esempi riportato dai microbi di Spallanzania, le lumache di mare e i ragni di Clerchi, che detto così non vuol dire niente. Allora, iniziamo da uno di questi. Per esempio, tu hai trattato i microbi di Spallanzani. Te ne ricordi tutte le cose che hai scritto? Dunque, a dire vero no, per un motivo molto semplice. Perché questo è un libro un po' strano per me, anzitutto perché non è proprio il mio campo di studi. Io sono matematico, ovviamente ero un matematico. e questo invece è un libro più che altro di biologia, di scienze naturali e così via. Però, ovviamente, gli animali li ho visti da quando ero bambino, anzi si vedevano di più quando io ero bambino, adesso un po' meno. Si vedono nei supermercati, ma conciati in modo da essere difficilmente riconoscibili. Però, recentemente, prima del Covid, perché poi avete notato che in Inghilterra, lo dicono così, nei paesi inglesi, si usava il BC e l'AD, però prima BC significava before Christ, e adesso è before Covid. In effetti, la nostra vita è divisa prima e dopo il Covid. e ho avuto la fortuna, la sfortuna, perché poi è stato l'ultimo, di fare un lungo viaggio a ottobre-novembre del 2019. Sono stato cinque settimane in Australia, in Nuova Zelanda e in Tasmania a fare conferenze, ma ovviamente non è che ho parlato per cinque settimane, anche se tu, appunto, gentilmente, ma hai ricordato che la meno un po' per le lunghe. Quando uno va effettivamente in Australia o in Nuova Zelanda, si accorge molto di più degli animali di quanto non se ne accorga qui, perché qui ci siamo abituati. È un po' come l'aria, noi respiriamo l'aria e l'aria è trasparente non soltanto agli occhi, ma anche al nostro corpo. Noi ci accorgiamo che c'è l'aria quando ci manca, ma fino a quando l'aria ce l'abbiamo, la respiriamo, ed è semplicemente un dato della nostra vita. Gli animali sono la stessa cosa, quando giriamo per le campagne non è che ci stupiamo di vedere le mucche, le pecore e così via, ci stupiamo di vedere animali che non sempre si vedono, i top in casa, per esempio, o certi insetti e così via. Sì, anche rettili molto più grandi. Certo, io tra l'altro abito poco fuori Torino, ma quando mi sono spostato lì, sulla vecchia via del Pino, ho cominciato a vedere effettivamente cose che non ero abituato a vedere, tipo i tassi. Una volta mi ricordo che ho passato vicino alla porta dello studio. Volpi sì, arrivavano le volpi, ho cominciato a dargli da mangiare, poi mi sono accorto che non è una bella cosa, perché queste tornano se tu gli dai da mangiare. Quindi cominciavano a diventare preoccupanti, ci sono gli scoiattoli che vedo tutte le mattine, gli uccellini e così via. Quindi ci si interessa e ci si accorge delle cose a cui uno non è abituato. Beh, quando uno va in Australia, effettivamente in Nuova Zelanda, lì ti accorgi proprio che sembra di essere in un altro mondo. Al punto che quando ci andò Darwin, agli inizi dell'Ottocento, verso il 1830, in quel famoso viaggio che lui fece cinque anni attorno al mondo, lui arrivò lì e disse l'impressione che si ha quando si arriva qua è che lui all'epoca era credente, perché voi sapete che Darwin partì credente nel suo viaggio e tornò praticamente quasi, non dico ateo, ma comunque certamente mettendo in dubbio le basi della religione. Ma lì in Australia era ancora un po' indeciso e disse sembra quasi che ci siano state due creazioni, che Dio abbia fatto un mondo e poi ci abbia ripensato e ne abbia fatto un altro, poi non si sa quale fosse il primo naturalmente. Ed effettivamente ci sono un sacco di specie che sono simili alle nostre, però diverse, in particolare per il fatto ad esempio di essere marsupiali invece che placentati. Molte delle specie sono parallele ma così diverse. E ovviamente quando uno sta così a lungo in questi posti, io tra l'altro in Australia ci ero già andato molti anni fa, ho fatto un semestre all'Università di Monash a Melbourne e effettivamente incomincia a ripensare a quello che sa e anche a quello che appunto non sa. Ma ti è venuta questa voglia, che sa che è molto interessante, di ricostruire tutta una serie di fasi della ricerca. Tu ti sei occupato, hai spiegato come è andata avanti per esempio la ricerca negli studi sulla memoria, negli studi sulla fecondazione artificiale, sulla robotica, proprio attraverso le varie specie animali. Per questo quando ti citavo adesso i microbi di Spallanzani, io avrei voluto dire esordendo, è stato il modo per rigenerare i morti, quando è da lì che poi, che detto così, però di fatto poi il processo è stato poi questo. Ma non solo, perché poi in realtà la cosa interessante, appunto volevo solo finire di dire come l'ho scritto, ho deciso di pormi delle restrizioni ovviamente, perché quando uno parla di animali, cioè se non si mette dei limiti ovviamente diventa una cosa sterminata, perché le specie animali, come sapete, sono milioni, la maggior parte delle quali io ovviamente non conosco, e quindi bisognava porsi dei limiti. E mi sono posto alcuni limiti che sono tra virgolette letterari, anche perché io sono un indegno membro di un'associazione che si chiama Oplepo, che nessuno conosce, che è un acronimo che sta per Opificio di letteratura potenziale, ed è la versione italiana di un gruppo molto più famoso, francese, che si chiama Oulipo, Louvoir de Literature Potenziale, un gruppo molto più famoso perché per esempio tra i suoi membri c'era Italo Calvino ovviamente, c'era Raimond Queneau, Georges Perec e così via, questi sono letterati matematici, o matematici letterati a seconda dei casi, e l'idea è di mettere insieme un gruppo in cui i matematici propongono delle strutture letterarie, e i letterati le realizzano. Quindi per esempio l'ultimo romanzo di Calvino che molti di voi conosceranno, «Se è una notte d'inverno, un viaggiatore», è una tipica opera ulipiana in quel caso, o oplepiana in italiano, perché tutto un romanzo fatto su costrizione, chi di voi ha letto un articolo di Calvino che si intitolava «Come ho scritto uno dei miei libri» si accorge che, mamma mia, dietro a questo libro c'è effettivamente tutto un impianto. E allora io mi sono posto più modestamente delle limitazioni, anche perché porsi delle limitazioni è utile, evita di lasciarti andare a dire semplicemente quello che ti passa per la testa, magari senza freni. Allora c'era una limitazione anzitutto di lunghezza, perché il rischio è che uno comincia a parlare di un animale, e poi ovviamente di certi animali ci sono decine di libri, allora potrebbe dedicare tutto il libro solo a quello. Quindi mi sono posto una unità di lunghezza che era sul mio computer quattro pagine, che erano scritte un po' piccole, qui credo che siano venute sei o sette, e tutti i capitoli hanno esattamente la stessa lunghezza, ed è divertente perché poi quando vedevo che cominciavo a sforare, allora capivo che in quel capitolo dovevo tagliare, togliere qualcosa, però sei stato bravo perché hai fatto dei collegamenti, e poi i collegamenti sono storicamente, sono dei flashback, per cui vai avanti, vai indietro, hai saputo assemblare, però te l'ho invidiato da morire, perché lì assemblare tutte quelle informazioni e sintetizzarle come dici te. Poi mi sono posto anche ovviamente più modestamente nella condizione di uno che dice stai per raccontare, questo tra l'altro è il modo in cui comincia, uno dei libri per la pura, è quel libro che dicevo di Italo Calvino, stai per iniziare la lettura di Se è una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino, io dicevo a me stesso stai per ricominciare o stai scrivendo un libro di argomenti che non sono esattamente i tuoi, quindi la mia costruzione quando era possibile era su ciascun animale leggere almeno un libro su questo animale dal punto di vista scientifico, leggere almeno una autobiografia o una biografia di uno scienziato che l'aveva studiato, scegliere solo animali che hanno portato effettivamente a scoperte scientifiche e questo restringe di molto il campo e fa sì che in un certo senso io mi tenessi a casa mia nel senso della storia della scienza, benché intesa in un senso più generale. E poi un'ulteriore restrizione era quella che hai citato prima, di cercare di unire le due culture, cioè proprio perché la biologia è un po' a metà fra l'umanesimo e la scienza, di far parlare agli scienziati nel senso di dire ecco questo è quello che io ho scoperto su questo animale e indirettamente sull'uomo perché il motto che tu dicevi di Monod che ciò che vale per il batterio vale per l'elefante e anche tutto ciò che sta in mezzo. Quindi il motivo per cui si studia i batteri per esempio è perché poi alla fine quelle cose si possono applicare anche sull'uomo. E allora l'ulteriore costruzione era di riuscire a fare delle citazioni letterarie su questi animali. A volte però io volevo parlare di certi animali e la citazione non è che ce l'avessi. Quindi ho dovuto andare a scavare la mia memoria oppure anche semplicemente a ricercare, a volte poi ci cascavo per caso su una citazione che dice faccio un capitolo su questo animale perché ho già la citazione e vado a vedere se servono, eccetera. Era un bellissimo punto di partenza. Ma la cosa interessante è che questo libro doveva essere un libro di una certa lunghezza anche perché gli editori poi sono sensibili a quelle se siamo nell'era dei tweet e quindi se uno supera i 140 caratteri... Terrorizzati, sono terrorizzati dalla lunghezza. No, appunto, dice ah, 140 caratteri, basta, basta, non è così. Quindi sono partito e ho deciso di fare 24 capitoli. 24 è un numero, non dico magico, ma interessante. Per esempio sono i preludi e fuga del clavicembalo ben temperato, i preludi di Chopin e così via. È un numero che funzionava bene. Solo che quando sono arrivato a 24 capitoli l'editore tra l'altro taceva, non mi aveva ancora cominciato a pressare come fanno gli editori, diceva, consegnare entro il tale giorno. E io ho continuato a 25, 26 e così via. Sono arrivati a 30, ho detto bene, adesso mi fermo, 30 sono le variazioni Goldberg. Poi naturalmente qualunque numero va bene, c'è sempre un esempio che può andare bene. Lo sapete che sono al pianoforte. Quell'altro è un numero prima, eccetera. Alla fine il libro è di 36 capitoli. Però non è che la voglia mi è passata. E allora, nel frattempo, da quando il libro è uscito, ne ho aggiunti altri 14. Voi direte dove? A casa mia, sul mio computer. Se qualcuno è interessato, gli posso mandare il manoscritto. Che non vedranno, vai la luce, a meno che poi non li ricicli in qualche altro modo, anche se sto pensando che alcuni di questi capitoli... Se lo venisse a sapere l'editore, secondo te l'editore non farà un volume 2? No, no, perché quello è sempre una brutta cosa. anzi dicono che porta anche, anzitutto porta sfortuna a intitolare un libro volume 1. Perché poi no, uno è costretto a dover fare il volume 2 e a fare il seguito. E devi garantire lo stesso successo. E poi c'è sempre questa legge che il primo volume magari vende un certo numero di copie e poi si va giù. Addirittura nel caso di Harry Potter, immaginiamo, nel caso di questo. Però questo per dire che non era una battuta dire te li ricordi, certo, mi ricordo di averli scritti, ma non so quali ci sono nel libro e quali invece ho aggiunto dopo, ad esempio per l'ultimo capitolo che ho scritto, quello non l'hai letto. Fantastico, perché mi sono preparata su tutt'altro? Adesso lui mi parla di quelli che ha a casa. Per esempio, ho letto, ho scritto un libro sugli elefanti. Perchè? Ma anzitutto perché lì c'era la citazione belle che pronta perché chi di voi ha letto Saramago che è venuto qua, mi ricordo l'ultima volta che l'ho visto era proprio su questo palco smagritissimo che era già stato tirato via per i capelli dalla morte come diceva lui da sua moglie e mi ricordo che sua moglie stava seduta al pianoforte che all'epoca era però da questa parte e che lui disse quella sera non c'entra niente con gli animali se non è chiaro è una divagazione e lui disse quella sera dice io naturalmente ho capito che presto morirò ho pensato cosa voglio che si scriva sulla mia tomba e disse voglio che si scriva qui giace José Saramago indignato mamma mia io ero seduto lì davanti dove veniva i prividi vedevo la moglie che piangeva così poi dopo qualche anno sono andato in Portogallo a Lisbona io ho visto la tomba di Saramago e non c'è scritto quello la moglie non gliel'ha scritto hanno scritto una frase così senza senso vabbè comunque chiusa la parentesi uno dei libri che Saramago scrisse alla fine della sua vita è questa storia che si chiama il viaggio dell'elefante ed è una storia diversissima da quella che racconta Saramago di solito Saramago faceva quella che si chiama una letteratura deduttiva era una specie di letteratura di tipo matematico tra l'altro ho avuto l'occasione appunto di parlarne anche con lui anche perché prima eravamo andati qui dietro a fare cena eccetera e la sua letteratura era fatta così non era fantascienza perché la fantascienza uno scrive quello che gli pare si inventa qualunque cosa e va tutto bene lui no lui faceva una ipotesi assurda per esempio non lo so la Spagna il Portogallo la penisola iberica si stacca dall'Europa si stacca in che senso come se fosse una zattera infatti si intitolava quel romanzo lì Zattere di pietra e questa è l'unica cosa che è fantastica ma tutto il resto doveva seguire in maniera perfettamente razionale e quasi tutti i suoi libri soprattutto quelli famosi sono fatti così un'ipotesi assurda da cui poi si deducono tutte le possibili conseguenze questo viaggio dell'elefante non è così lui racconta di essere stato una volta in un ristorante a Vienna uno dice cosa c'entra a Vienna dove c'era l'immagine di un elefante e disse cosa ci fa un elefante qua Vienna e gli raccontarono questo elefante è arrivato da Lisbona che era ovviamente il posto dove arrivava anche Saramago e lui disse voglio sapere la storia di questo elefante e raccontò la storia di un elefante che ovviamente non arrivava da Lisbona nel senso che era nato lì arrivava dalle Indie perché Vasco de Gama aveva aperto questa strada verso le Indie per nave e quindi si cominciava portare animali esotici in Portogallo e raccontò questo viaggio tremendo perché l'elefante fu dato al re del Portogallo il quale lo regalò al principe della Sturie quindi questo elefante a piedi se ne andò da Lisbona fino a Valladolid che all'epoca era la capitale spagnola poi il principe della Sturie lo regalò a Massimiliano d'Asburgo il quale stava ovviamente a Vienna e quindi dovete metterlo su una nave portarla a Marsiglia fargli fare la pianura padana e così via e mi ricordavo di aver letto quel romanzo lì meraviglioso e tu cosa hai associato all'elefante? niente all'elefante l'elefante ma no se continui no sempre sulla logica di queste ricerche in questo caso è semplicemente certo questo infatti è uno dei motivi sono un po' più rilassato nel senso che questi capitoli non finiscono più nel libro però la cosa interessante è che questi animali spesso erano considerati animali fantastici se uno legge il milione ad esempio di Marco Polo le domande che si fa sono due cioè primo ma c'è andato veramente in Cina o si è inventato tutto stando vicino a Venezia così per esempio nel milione di Marco Polo ci sono questi gli unicorni ora uno dice sì già bravo questo ha visto gli unicorni poi però lui guarda vai a vedere dov'è che li ha visti e li ha visti a Java e allora ci si accorge che lui ha visto i rinoceronti che è una cosa molto diversa con un unico corno e allora tutti questi pachidermi che sono l'elefante l'ipopotamo e il rinoceronte che da noi ovviamente non ci sono vengono scoperti e l'idea è che ci sono animali fantastici che poi però in realtà erano animali reali in un certo senso trasfigurati e la cosa interessante e questo non lo sapevo fino a qualche tempo fa che anche in Savoia c'aveva un elefante che si chiamava Fritz e arrivò agli inizi dell'Ottocento e la storia degli elefanti in Europa per esempio è una cosa bellissima se uno legge Plinio la storia naturale si accorge che gli elefanti arrivarono con Pirro quelle famose le vittorie di Pirro arrivarono in Sicilia per la prima volta ovviamente li conoscevano in Africa in Oriente e così via ma l'Europa non li aveva mai visti lui arrivò con gli elefanti in Sicilia Pirro poi li portarono a Roma quando la prima guerra punica finì poi ci furono gli elefanti ovviamente di Annibale che furono trasportati attraverso le Alpi tra l'altro sapete dove? passarono qui al colle delle Fenestrelle che io non sapevo nemmeno che esistesse e qui entra la scienza perché? perché si racconta appunto e questa è la storia che raccontano gli storici romani che appunto Annibale arrivò dalla Spagna ovviamente con questi elefanti a piedi e poi passò nella pianura padana e ovviamente lì cominciarono le prime battaglie della seconda guerra punica ma dove passò Annibale? cioè ci sono tanti passi sulle Alpi a seconda di dove lui ha cominciato a girare per non andare verso Marsiglia e non passare attraverso lungo la costa perché i romani stavano cercando di fermarla appunto sulle spiagge quindi lui entrò dentro e allora si è scoperto recentemente credo che sia 5 o 6 anni fa soltanto si è scoperto che sul collo delle fenestrelle a un metro di profondità ci sono dei detriti diciamo così sterco di animale seppelliti appunto in basso e in una quantità che è eccezionale ora uno dice quanti erano gli elefanti di Annibale 37 saranno grandi ma non li potevano fare troppo sterco solo che c'erano credo 10.000 cavalli al seguito dell'esercito 10.000 cavalieri naturalmente più tutti i fanti che andavano a piedi e allora si è analizzato questo strato sotterraneo di detriti si sono trovati dei batteri che si chiamano clostridium che stanno effettivamente nelle feci dei mammiferi e quindi si sono datate con i metodi chimici e si è scoperto che effettivamente sono di circa 2200 anni fa quindi esattamente alla data della supposta traversata e quindi lì la scienza interviene in questa maniera strana datazione di reperti ad esempio uno dei capitoli che credo sia in quel libro è appunto l'adattazione di questi fossili e così via quindi questo per dire uno dei capitoli che vengono in mente per parlare di un capitoletto di questo libro la rotolo me la fumo la rollo la regalo no volevo dirti tu per esempio è un argomento abbastanza insomma attuale quello dei vaccini tu hai parlato del capitolo dedicato alla mucca che credo sia di Genet si legge Genet Genner quindi non è francese la mucca di Genner e tu hai spiegato quando è nato il vaccino hai spiegato quando sono nati i Novavax ma i Novavax sono nati un sacco di anni fa un secolo fa nascono insieme ai vaccini naturalmente ma lì la storia è interessantissima perché ovviamente è legata al vaiolo che era una malattia terribile perché 10% della popolazione europea moriva di vaiolo all'epoca 10% e si scoprì ad un certo punto nel settecento che c'erano due tipi di vaiolo umano uno forte che infatti si chiamava mayor e l'altro più debole che si chiamava minor minor direbbero gli inglesi e quello minore era meno letale ma pur sempre comunque vaiolo quindi moriva credo l'uno o il due per cento della popolazione mentre l'altro lo faceva morire 10% ora quello che successe fu che a qualcuno ma qui non si sa quando perché ovviamente in tutto il mondo il vaiolo ovviamente era diffuso in tutto il mondo a noi interessano le cose nostre perché quella è la nostra storia ma già i cinesi per esempio avevano capito che se loro prendevano delle pustole di vaiolo e le trituravano le facevano seccare e poi le inalavano come si fa col tabacco nelle narici e si provocava che cosa ovviamente ti infettavi se tu eri sufficientemente oculato da prendere pustole di vaccino minor la forma debole e inoculartela se ti andava bene rischiavi meno che prenderti quell'altra e però il problema è che questa non era una vaccinazione questo era un modo di infettarsi quindi continuava a far propagare la malattia questa tecnica cinese ad un certo punto si è spostata lungo la via della sete eccetera e è arrivata in Turchia in Turchia nel settecento inizio del settecento arriva una una signora a seguito dell'ambasciatore inglese in Turchia la famosa Lady Montagu la quale vede che i turchi usano questa pratica poi i cinesi la facevano così per inalazione ma di solito basta fare si faceva un taglio per l'epoca non c'erano le seringhe tra l'altro si faceva un taglio sul braccio sulla gamba e si metteva la pustola dentro e questa signora vede questa pratica che viene effettuata in Turchia e quando torna in Inghilterra la propone a corte ovviamente questi erano diplomatici quindi di alto rango la corte agli inizi è dubbiosa ma poi non ricordo più bene una delle principesse ha qualche figlio che si ammala e insomma alla fine questa pratica incomincia a diffondersi in Inghilterra e si diffonde in Inghilterra e naturalmente ci sono i Novak subito dice non possiamo fare questa cosa perché le motivazioni poi sono sempre divertenti perché arriva dai turchi dice non vorremmo fare delle cose turche all'epoca per gli inglesi era una cosa disdicevole il solo fatto che arrivasse dalla Turchia e poi la cosa interessante è che c'erano nazioni addirittura che erano contrarie a questa pratica per esempio i francesi e Voltaire nelle lettere sugli inglesi quando lui va in Inghilterra si accorge che in Inghilterra c'è questa pratica e i francesi invece non la vogliono fare e questa pratica diventa un po' il simbolo dell'illuminismo cioè la Francia che è chiusa ancora così nel nel buio dell'irrazionalità gli inglesi che invece sono avanti e Voltaire è uno dei fautori di questa cosa però come ho detto era una pratica pericolosa perché continuava a far circolare la malattia e certo ti andava bene se ti andava bene se ti andava bene sono muovivi alla fine del settecento invece verso proprio la fine del secolo 1796 questo signor Jenner sente non è lui che fa la scoperta assente da una una mungitrice di mucche si parlava appunto del vaiolo che era così diffuso e lei dice io intanto non me lo prendo perché me lo sono già preso dalla mucca e il medico dice ma come questo era sapere popolare i contadini sapevano che c'era un vaiolo vaccino e di lì deriva la parola cioè vaiolo delle mucche per questo che si chiama vaccino esatto si chiama per questo motivo vaccino cioè vaiolo che era un vaiolo animale che però se un uomo veniva infettato di questo vaiolo che in fondo era quasi innocuo per l'uomo non si prendeva quello che invece era letale per l'uomo e allora lui comincia a fare ricerche fa degli esperimenti alla fine inocula una pustola di vaiolo vaccino appunto preso da una mucca su un bambino e scopre che effettivamente questo bambino rimane immunizzato e non si prende il vaiolo allora qui nascono gli altri novax perché quando questa pratica incomincia a diffondersi in Inghilterra non è più il motivo che ce lo dicono i turchi ma che ci mettiamo dentro di noi delle cose che sono animali e allora come è possibile ci sono queste vignette meravigliose io ho provato con l'editore a dire facciamo delle immagini perché sono interessanti su altri libri sì di matematica ma su questo no e c'è una bellissima vignetta dell'epoca in cui ci sono c'è questo dottore che inocula il vaccino ai bambini e questi bambini hanno che cosa le corne da mucca la faccia da mucca gli vengono le mammelle perché sono gli stessi meccanismi esattamente che abbiamo adesso e in quel momento tra l'altro questo gener poverino è uno che era ha messo di tasca sua diciamo così ha fatto queste ricerche ha speso il suo capitale per cercare di diffondere questa pratica e questo ci può capire che cosa succede anche col covid che siamo nel 1796 e mi sembra che nel 1980 per la prima volta l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il vaccino scomparso ci sono voluti due secoli di vaccinazione il vaiolo due secoli di vaccinazione noi l'abbiamo fatto io da bambino ho fatto due secoli per farlo spavere ancora e infatti noi siamo precedenti io poi sono degli anni 50 addirittura e questo ci fa capire che forse quest'idea che adesso c'è arrivata una pandemia e che basta ne abbiamo abbastanza e quando finisce io ho provato a dirlo una volta in televisione che c'erano voluti due secoli e naturalmente mi sono voluti volati addosso eccetera e questa è una storia meravigliosa perché poi i vaccini oggi comunque credo che il vaiolo sia l'unica o forse c'è ancora un'altra malattia che è stata effettivamente completamente debellata abbiamo un sacco di medici la poliomielite ad esempio tu Ottavio la poliomielite è quasi così ma se guardate quel documentario che sta su Netflix credo di Bill Gates che si chiama dentro la mente di Bill Gates Bill Gates che come sapete fa molte cose filantropiche una di queste che fa è stato il tentativo di metterci di tasca sua e della sua fondazione per cercare di debellare la poliomielite ma non c'è verso perché poi basta che ci sia un focolaio da qualche parte in qualche villaggio e si ricomincia sono anche riemerse esatto con l'arrivo riemergo e si fa vedere queste mappe cioè la tubercolosi è tornata per esempio certo guarda Ottavio questo è un insegnamento che poi appunto guardando il caso specifico delle mucche del vaiolo eccetera capisci anche che cosa succede molto attuale poi per esempio ne ho visto il capitolo sulle lumache per importantissimi studi che sono stati fatti sulla memoria poi in realtà tu divaghi lumache di mare e poi tu divaghi sulla loro attività sessuale che diventa di nuovo molto interessante io non sapevo un sacco di cose sulle lumache anche di assimilazioni che hai fatto alla vita sessuale degli uomini questi animali io confesso che non li avevo mai visti sono animali anche abbastanza schifosi bruttini sono dei lumaconi di queste dimensioni che si chiamano appunto lumache di mare per esempio la citazione sulla lumache di mare quella è stata un caso proprio fortuito tu hai citato Steinbeck esatto è stato un caso fortuito perché in realtà Steinbeck io lo credevo ma Steinbeck era un medico era lui che era anche medico scrittore medico lui in realtà era dunque lui credo che avesse fatto biologia biologia in realtà aveva studiato a Stanford Steinbeck ed era molto interessata alla ricerca scientifica e qualcuno di voi forse ha visto un film o ha letto il libro che è legato al film questo libro è diventato negli anni 60 70 era un po' uno dei testi sacri del come si può chiamare la filosofia californiana no? quello degli hippies eccetera che si chiama Canary Row forse l'avete visto dove c'è questo dottore che si chiama Ed Ricketts e questo dottore in realtà ce l'ho messo anche in un altro capitolo perché è uno dei primi ecologi di coloro che hanno capito che in realtà forse bisogna guardare al di là delle singole specie e cercare di capire che c'è ovviamente una rete di cui le specie sono soltanto i fili i tessuti che le tengono insieme e questo Ricketts tra l'altro ha avuto una storia appunto che è diventata famosa grazie ai romanzi di Steinbeck che ce l'ha messo di Steinbeck che ce l'ha messo dentro e morì giovane invece credo che avesse poco più di 40 anni forse quasi 50 morì in un incidente in automobile perché la sua macchina si fermò su un passaggio a livello aperto arrivò il treno e lo travolse però Steinbeck era andato insieme a questo Ricketts a fare dei giri nella bassa California loro stavano a Monterrey in California arrivarono fino alla bassa California e scrissero insieme un libro che è un libro molto strano perché è scritto a quattro mani o a due persone diciamo una parte è il diario di Borodo di questa spedizione di qualche settimana in barca a raccogliere reperti marini ed è scritto da Steinbeck e l'altra parte invece è la relazione scientifica su ciò che è stato trovato e che è stato studiato scientificamente da Ricketts poi questo libro è uscito come libro a due autori e adesso rimane soltanto più la prima parte anche perché la seconda parte è una cosa tecnica che leggono soltanto gli esperti e in questo diario di Borodo che io avevo letto semplicemente dopo aver letto Canary Row perché volevo sapere la storia di Ricketts mi sono trovato a un certo punto delle pagine sulla lumaca di mare che è un organismo abbastanza strano anche appunto per le sue abitudini sessuali perché è ermafrodita quindi naturalmente ha tutte e due gli organi sessuali e voi capite che se uno questi organi sessuali non solo li ha tutte e due ma li ha anche disposti in maniera strategica li può usare simultaneamente quando ti hanno invitato alla radio avete parlato un quarto d'ora dell'accoppiamento della lumaca di mare a radio 2 fanno delle ammucchiate incredibili nel senso che si mettono 10-20 di queste lumache in serie diciamo così una dietro l'altra Barbarossa ti chiedeva ma fanno il gesto contemporaneamente cioè contemporaneamente chi è che se l'ha chiesto te lo chiedeva Barbarossa ti ricordo ah giusto è vero sì sì perché poi certamente ognuno ha le sue domande e viene affascinato da queste cose però la cosa straordinaria è che questa lumaca a parte appunto le sue abitudini e anche la sua conformazione è un organismo tutto sommato molto semplice ha pochi neuroni sono grossi tra l'altro quindi si possono vedere bene ed è stata scelta da un signore che si chiama Candel che è tuttora vivo tra l'altro e che ha vinto il premio Nobel per la medicina per gli studi che ha fatto sul sistema nervoso di questa lumaca studiando il modo in cui la lumaca ricordava gli stimoli che gli venivano fatti cioè in altre parole è riuscito a scoprire il meccanismo della memoria e sempre in base al principio che abbiamo già detto prima di Monod che è quello che vale per la lumaca vale anche per l'uomo e per tutto quello che ci sta fuori e allora oggi sappiamo come funziona appunto la nostra memoria grazie a queste piccole o grandi lumache grazie a queste piccole grazie a queste piccole grazie a queste piccole